Buongiorno, buon venerdì mattina, benvenuti ad Omnibus. Mattinata di elezioni, perlomeno per gli inglesi, che sono andati alle urne come loro consuetudine. Il giovedì c'è stato un vero e proprio terremoto, perché il partito laburista ha guadagnato qualcosa come 400 seggi, per il momento sono a 397, ben oltre la maggioranza assoluta che è 326, ma forse più della vittoria dei laburisti fa cronaca il vero e proprio crollo del partito conservatore, che i primi dati ufficiali danno intorno ai 100 seggi, ben oltre i 104 seggi che è il record negativo addirittura, se non ricordo male, del 1907 o qualcosa del genere. Questa mattina parleremo appunto delle elezioni britanniche, che è un caso a parte, la Gran Bretagna come sapete non fa parte più dell'Unione Europea, ma è un paese importantissimo, spesso anticipatore di equilibri. Ne parleremo con Antonio Di Bella, buongiorno. Buongiorno, ben tornato Antonio d'Omnibus. Collegati da Londra abbiamo Claudia Fusani, il quotidiano del sud. Buongiorno a Claudia. Buongiorno a tutti. Se non ricordo male, però ho detto un'inesattezza perché non sei a Londra. Sono a Wimbledon, come dormire. Però ieri sera ho avuto l'onore di essere presente a questo evento organizzato dalla London School of Economics e di Scienze Politiche. Quindi abbiamo fatto tutta la serata elettorale con professori, esperti, giornalisti. È stato molto interessante. Qui non sei a Wimbledon per il tennis? No, sono anche per il tennis, ma quest'anno la coincidenza ha voluto che... Ha voluto che, ok. Il giorno elettorale... Comunque ti posso dire una cosa molto carina, che qui a Wimbledon uno dei seggi era in una scuola ieri mattina. Ho accompagnato la mia padrona di casa a votare. In una scuola dove tranquillamente c'erano bambini che erano a scuola che cantavano, suonavano, facevano i cori e le persone andavano tranquillamente a votare. Mi è sembrata una scena molto piacevole. Ottimo. Nel frattempo vedete l'assegnazione 5, dovrebbe essere il numero 10 di Downing Street. In Gran Bretagna le cose avvengono con una velocità pazzesca, per cui ieri sera Starmer, il leader dei laburisti, ha vinto. Quindi oggi dovrebbe già insediarsi a Downing Street. Per questo tutte le televisioni del mondo hanno la telecamera fissata su questo portone di legno dove sono passati i primi ministri da Churchill in poi. ma soprattutto dovrà incontrare Re Carlo prima. Do il benvenuto ad Edoardo Narduzzi collegato da Londra e do il benvenuto per la prima volta ad Omnibus a lei. Ex giornalista, scrittore, posso dire imprenditore digitale nel settore della finanza, è corretto? Grazie, correttissimo. Buongiorno a tutti. Allora, lei che da molti anni vive a Londra e commenta, non so se darci del tuo o del lei in quanto ex giornalista, questo poi me lo dovrai dire lei, che cosa significa per la Gran Bretagna questa che alcuni giornali hanno chiamato la landslide, ovvero la slavina che è arrivata dopo quanti anni di governo conservatore e dopo la Brexit soprattutto? Innanzitutto diamoci del tu. Cosa significa? Significa moltissimo, perché sono quasi tre lustri di governo conservatore. di fatto da quando è cominciata la campagna della Brexit è stata una sorta di guerra civile interna al Partito Conservatore. Il Partito Conservatore è il grande sconfitto, i grandi sconfitti sono anche i Brexiteers del Partito Conservatore, di cui Sunak era sicuramente un rappresentante, ma prima di lui la Littstrasse e anche Boris Johnson. E poi ci sono alcuni cambiamenti abbastanza importanti che il sistema elettorale inglese sta schiacciando, perché il Labour vince in termini di seggi ma guadagna pochissimo in termini di voti, credo che guadagni l'1,5% rispetto al 2019, mentre il terzo partito britannico con quasi 4 milioni di voti, quindi supererà i 4 milioni di voti, è quello di Nigel Farage, quindi un partito di destra populista che non prende seggi, ne prende molto pochi, finirà ampiamente sotto i 10, però prende voti. E quindi qualcosa significherà nel futuro politico del Regno Unito. Poi la vera notizia è che Londra diventa tutta Labour e un po' Lib Dem, quindi il motore economico del Paese praticamente a zera i conservatori che perdono addirittura il seggio di Westminster. Abbiamo anche una cartina in tuo aiuto, prego alla Regione di mandare una cartina con i seggi della Gran Bretagna, ti prego di continuare, grazie. E soprattutto il Partito Conservatore che comunque negli ultimi otto anni, cioè da quando c'è stato il referendum sulla Brexit, ha cambiato cinque primi ministri e addirittura sei ministri dell'economia, cioè sei cancellieri o scacchiere, quindi una turbolenza, una volatilità politica che non si era mai registrata in questo Paese. Questo è un Paese che è gestito dal numero 10 Downing Street. L'autonomia territoriale è molto limitata. È un Paese nel quale il primo ministro ha poteri di intervento e che identifica, diciamo, fortemente la politica nazionale. E in questo Paese praticamente i conservatori, dopo tre lustri, escono marginalizzati. Sarà molto difficile per loro resistere perché nel sud dell'Inghilterra, che era la loro base, delle costituenze forte, di fatto avanzano moltissimo i liberal-democratici che non guadagnano molto in voti ma guadagnano in seggi. Quindi la campagna dell'Ibdem è stata vincente. Il loro motto era leviamo più seggi possibili ai conservatori. Londra è tutta rossa con un po' di Lib Dem. Le zone periferiche di Londra come appunto dove la Fusani, a Wimbledon, hanno vinto Lib Dem, che hanno vinto anche Richmond, Twickenham e così via. E poi i conservatori rimangono a macchia di lopardo e quindi non hanno più una capacità di rappresentare neanche un pezzo di Paese. Infine, perché gli scandali che hanno accompagnato questi tre lustri conservatori oggi lo pagano nelle urne, paga moltissimo anche il partito indipendentista scozzese che perde praticamente più dell'80% dei suoi deputati. Anche lui travolto da scandali, siamo al terzo primo ministro scozzese in meno di quattro anni e quindi anche nel nord del Paese l'avanzata Labour in termini di seggi è molto significativa. Quindi questo è un Regno Unito che dopo tre lustri, se vogliamo sintetizzarlo, di governo Toris, nel 2010 il Regno Unito e soprattutto Londra incarnava il soft power, era il luogo dove andare, dove investire, dove trasferirsi, dove studiare. Oggi siamo a no power, cioè l'Inghilterra è spaisata, Londra perde investimenti, perde aziende, non è più così soft, non è più così ambita come era 15 anni fa. Oggi il Labour deve ricostruire un'immagine di un Paese che arriva a questo appuntamento veramente con pochissime idee e con una presenza populista di Farage che non c'era mai stata in questi numeri nella politica britannica. Grazie mille Edoardo Narduzzi. Antonio Di Bella, allora abbiamo sentito Farage non prende seggio, quantomeno qui al momento ne davano quattro, però bisogna fare i calcoli al termine, però prende il 15% dei voti. Adesso il sistema elettorale britannico è spietato, però il 15% di coloro che sono andati a votare che cosa ha gridato e a chi? Beh, diciamo che intanto ha gridato no la Brexit, per cui Farage è vero che prende voti, però dimostra che non è più il vento che spesso l'Inghilterra anticipa dei fenomeni. La Brexit anticipò il populismo e il sovranismo di tutto il mondo. Io credo che Starmer invece anticipi, spero, una nuova stagione riformista perché in qualche modo potremmo parafrasando spadolini dire che la manica è più larga, cioè c'è più distanza fra l'Inghilterra e la Francia, una Francia che studia ancora da fronte popolare e destra e invece una Gran Bretagna che dimostra come la forza tranquilla per citare di Mitterrand di Starmer prevale limando le estreme, mandando a casa Corbyn e quindi io credo che Farage sia quindi lo sconfitto nonostante i guadagni politicamente in prospettiva anche se Starmer ha un grande compito, un vasto programma di rilanciare il Labor, di rilanciare un paese che si è pentito della Brexit, di quello strappo e ora Starmer sarà il contraltare della destra europea che stanno invece in grande salute. Grazie mille. Nel frattempo arriva un'agenzia che dice che l'ex premier Liz Tras che ha avuto la sventura di passare alla storia come l'ultimo premier che ha incontrato la regina Elisabetta perde il seggio da deputato per 630 voti e solo uno dei tanti nomi dei conservatori addirittura se non ricordo male se non ho letto male sono otto i ministri dei Rishi Sunak che non sono stati riconfermati. Allora come diceva Antonio Di Bella Gran Bretagna spesso anticipatrice nella musica nella moda ma come del resto nella politica e ovviamente i giornali italiani e qui lo chiedo a Claudio Fusani che è un'attenta osservatrice anche delle dinamiche interne cominciano a chiedere ai leader soprattutto del PD che cosa significhi questa questa vittoria Matteo Renzi dice i conservatori hanno fallito ma la sinistra torna a vincere anche perché Rottama e qui il verbo non è a caso per Renzi la visione ideologica di mille bande di Jeremy Corbyn e torna alla stagione del riformismo non credo che si possano replicare i modelli in altri paesi mi limito a dire dice che Renzi che senza un centro riformista la sinistra non vince l'esperienza britannica lo dimostra in modo netto poi c'è anche un'intervista a Bersani che dice una lezione per la sinistra più in generale per l'opposizione italiana tu come la vedi Claudia? No guarda io come la vedo diciamo che conta poco diciamo che ieri sera stanotte la prima domanda che ho fatto a uno di questi professori che gestivano questa maratona del voto è stato che tipo di lezione può arrivare dal voto inglese a noi all'Italia all'Europa eccetera cioè sulla sinistra su questa nuova sinistra mi hanno subito gelato dicendo guarda qui non è che ha vinto la sinistra qui ha vinto un popolo di persone che non ne poteva più di questi cialtroni che hanno governato per 15 anni hanno fatto disastri uno dietro l'altro figuracce bugie un disastro economico che appunto viene dopo la Brexit che non era stato previsto non era stato calcolato nelle sue dimensioni quindi più che un vero sentimento di sinistra io ci sono rimasto un po' male devo dire ha prevalso il fatto che appunto c'è una persona nuova che ha detto cose molto semplici ha parlato di sanità ha parlato di casa ha parlato di lavoro ha parlato di costo della vita e queste sono le cose di cui Starme dice che si andrà ad occupare subito e quindi mi hanno un po' gelato nella mia nella mia come dire io mi ero fatto un po' l'idea che ti rifatti il film potesse essere un nuovo corso no un film no però vediamo cosa succede tutta Europa simpatizza a destra e invece succede questa cosa importante in Gran Bretagna che appunto come avete detto finora in genere anticipa sempre molto mi facevano notare due cose interessanti a parte questa cosa di Farage che stanotte lì per lì sembrava avesse preso ancora più seggi e Farage non era mai riuscito a prendere un seggio attenzione mi dicono e quindi è stato un piccolo shock anche quello molto importante l'affermazione dei libdem insomma che sono andati bene e sono cresciuti e quindi comunque c'è una voglia sicuramente di escludere tutto ciò che è estremo assolutamente e di costruire qualcosa vogliamo chiamarlo un centro-sinistra vogliamo chiamarlo progressista ancora non l'hanno definito però c'è questo qualcosa di nuovo che sta come dire che si sta fermando soprattutto bisogna vedere cosa sarà saprà fare Starmer in questi primi tre quattro mesi c'è molta attesa ma ho visto soprattutto una popolazione molto seccata molto scocciata molto disillusa odio verso i politici purtroppo è una delle conseguenze del 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 populismo no questa cosa che ormai appunto prima uno vale uno e subito dopo poi sono tutti sono tutti incapaci e sono tutti inaffidabili speriamo sperano di ricostruire anche una fiducia rispetto a chi governa e a chi deve gestire il paese appunto nel frattempo la BBC dice 410 seggi i laburisti 116 ai conservatori allora Edoardo Narduzzi le prime parole del nuovo premier laburista Starmer sono ora possiamo guardare di nuovo avanti camminare verso il mattino la luce del sole della speranza palli dall'inizio ma sempre più forte nel corso della giornata risplende ancora una volta su un paese che ha l'opportunità di riprendersi il suo futuro sembra un po' una cosa da Mao questa dichiarazione no da Mao no il personaggio com'è questa enfasi questa poesia che diceva che diceva alcuno è il frutto dell'emozione oppure più concreto e questi termini aulici sono così il senso della vittoria guarda secondo me è una frase una dichiarazione molto britannica nel senso che lui è un personaggio che viene da una famiglia divorziata la mamma non era working class ma comunque non apparteneva sicuramente alla borghesia britannica questo è un paese ancora in cui c'è l'aristocrazia in cui la differenza di classe si vede non è dichiarata ma si vede nella società nell'interazione della società ci sono le scuole private ci sono le scuole pubbliche Starmer ha fatto il suo percorso lui non si è laureato a Oxford come tutti i cinque primi ministri conservatori che sono stati che vanno a casa e questo è anche spiega come se possiamo dire se forse Macron sarà l'ultimo enarca presidente anche qui c'è un voto contro l'elite che si forma nelle scuole private a Oxford eccetera e c'è un'apertura verso qualche forma di leadership più diciamo più che emerge più dal basso comunque Starmer è di fatto un magistrato che ha lavorato gran parte della sua vita professionale nella nell'accusa quindi nella parte penale da noi sarebbe sarebbe stato l'equivalente di un primo ministro anche se poi ha retto un ufficio di vertice della magistratura britannica conosce molto bene chiaramente la macchina amministrativa dove lui è stato non ha mai gestito grandi organizzazioni questo è il limite di Starmer non è mai stato eletto a livello locale non ha mai fatto in precedenza il ministro il membro del governo adesso lui ha una vice molto brava che probabilmente anzi sicuramente sarà il nuovo ministro dell'economia è una squadra che non da scoprire perché né lui né i suoi hanno essendo stati all'opposizione per quasi 15 anni hanno mai governato però ha il paese dietro perché adesso questo è un paese molto unito dietro i risultati tutti si lamentano alla fine della Brexit ma nessuno la rinnega neanche i media perché poi fare anche autocritica diventa difficile il paese ha deciso Starmer è il primo ministro da oggi il paese sarà dietro a lui lui rappresenta l'unico partito nazionale perché i Labour sono gli unici che rappresentano tutti i territori del Regno Unito dall'Irlanda del Nord al Galles anche in Galles questo è interessante che i conservatori praticamente vengono azzerati in Galles e in Scozia dove invece avevano avuto dei buoni risultati nell'ultima elezione del 2019 con Boris Johnson e quindi Starmer è un personaggio da scoprire nel senso che è un politico che affronta per la prima volta un'esperienza di governo è britannico al 100% non toccherà nessuno dei temi che a noi ci piacciono cioè la Brexit il riavvicinamento all'Europa e questi argomenti perché sono divisivi per il paese e sono divisivi all'interno del Labour perché adesso dovremmo capire anche che tipo di gruppo parlamentare emerge quello che ha gestito finora Starmer era stato scelto da Corbyn oggi c'era un gruppo parlamentare molto giovane e molto legato come dire è molto legato al suo leader tra l'altro apro una parentesi i Verdi prendono pochi seggi ma hanno fatto molto bene prendono quasi due milioni di voti in alcuni seggi in alcuni collegi uninominali dove hanno vinto hanno stracciato il candidato conservatore e quindi Starmer oggi si avvia a riconciliare il Regno Unito con la sua società che è molto esce molto divisa dopo 15 anni di governo conservatore e comincerà a dialogare con l'Europa ma se lo farà dire dal basso cioè Starmer l'Europa la comincerà a prendere in considerazione la seconda parte del suo mandato quando il malcontento popolare perché l'economia qui non va bene poi se avremo tempo ne parleremo il malcontento popolare che è già arrivato al 65% di coloro che rimpiangono il voto sulla Brexit aumenterà ancora quando lui potrà dire che questo gruppo parlamentare Lib Dem che è il più numeroso della storia dei liberal democratici e che è file europeista al 100% comincerà ad incalzarlo perché comincerà a dire che per avere un'economia più dinamica e un maggior crescita economica forse riavvicinarsi al principale parte commerciale che è l'Unione Europea diventerà importante e a quel punto ma siamo già avanti nel corso di questa legislatura Starmer forse comincerà a parlare di Unione Europea e di post Brexit ma ci vorrà del tempo per adesso sarà totalmente concentrato sul suo paese che è stato lasciato non la Singapore sul Tamigi che in maniera populista dichiarava Boris Johnson nella campagna elettorale pro Brexit qualche anno fa ma ha lasciato un paese Boris Johnson e il partito conservatore che bisogna essere oggettivi loro oggi non hanno ancora un accordo commerciale non con il Giappone come l'Unione Europea ma con il Canada o con gli Stati Uniti cioè il post Brexit di questo paese è una tra virgolette tragedia economica nel senso che loro sono riscoperti una piccola isola con poco potere negoziale e non l'impero che avevano in testa Boris Johnson e i suoi Brexit quando vendevano diciamo i sogni post-Cerciliani all'elettore medio-britannico grazie mille molto brutalmente andiamo in pubblicità perché siamo in ritardo ci vediamo subito dopo le 8.28 di nuovo in diretta per parlare delle elezioni britanniche del terremoto che c'è stato della Slavina come dicono i britannici con la vittoria di grandissima maggioranza dei laburisti che cosa comporta questo per l'Europa che cosa comporta per gli Stati Uniti do il benvenuto ad Alexander Alden ex diplomatico americano senior fellow come si dice da quelle parti del think tank Atlantic Council buongiorno Alden allora Edoardo Narduzzi l'ospite che ci ha preceduto ci ha detto che la Gran Bretagna non ha ancora un accordo commerciale con il paese con il quale si vanta di avere da sempre la cosiddetta relazione speciale vale a dire gli Stati Uniti quindi le cose non vanno esattamente bene tra i due paesi delle due sponde dell'Atlantico che cosa succede? Prima di tutto buongiorno a voi grazie per l'invito direi che non c'è niente di eccessivamente problematico tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna accordi commerciali a parte gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno come lei ha menzionato una relazione cosiddetta speciale che è coltivata già da tantissimi decenni vorrei ricordare che non era sempre così e non è una relazione che deve essere presa per scontata infatti ieri abbiamo celebrato il giorno dell'indipendenza proprio dalla Gran Bretagna e abbiamo avuto in primi 150 anni di storia americana che non era buona con il Regno Unito in questo momento le cose stanno cambiando da tutte e due le sponde sembra che ci siano cambiamenti però ciò nonostante io direi non dovrebbero avere un effetto negativo sulle relazioni che sono altamente istituzionali grazie mille allora questa domanda che io le ho fatto sulla Gran Bretagna mi dà il là e qui chiedo alla regia di mandare la copertina dell'Economist mentre vedo un ospite improvviso che sta per entrare che è Luca Telese che sta attraverso la telecamera la copertina dell'Economist ciao Luca buongiorno io di Bella siamo qui dalla notte abbiamo fatto un falò nel camerino per ci barci dicevo la copertina dell'Economist che dovremmo avere ma eccola qua allora no way to run a country qualcuno l'ha trovata di cattivo gusto perché c'è quello che in gergo si chiama un deambulatore con il tipico scudo che vediamo dietro ai podi dei presidenti degli Stati Uniti sicuramente è una copertina di efficacia lo chiedo innanzitutto ad Antonio Di Bella che ha in libreria libro l'impero in bilico di Solferino che si occupa appunto degli Stati Uniti e qui noi entriamo nell'altro argomento di cui volevamo parlare questa mattina che è l'incognita Biden che cosa sta accadendo e leggiamo a giorni alterni Biden dentro Biden fuori addirittura la notizia è di questa mattina e la riporta il New York Times che un gruppo di parlamentari democratici starebbe addirittura mettendo in piedi una sorta di fondo parallelo per raccogliere dei soldi nel caso di un ritiro improvviso di Biden intanto diciamo che mai il titolo fu più profetico non l'ho scelto io ma l'ho scelto l'editore in bilico è proprio come il deambulatore ha bisogno del deambulatore per non cadere quindi è crudele diciamo quel titolo ma fotografa è sicuramente un problema e il problema sono i soldi cioè chi finanzia ha già cominciato a finanziare pesantemente Biden si domanda se il cavallo su cui hanno messo tutti i soldi è in grado di arrivare a fine corsa ma non solo e se anche vincesse cinque anni col deambulatore questo è l'interrogativo che tutto il mondo credo si ponga perché la più grande potenza con una persona che dice apertamente che dopo le otto di stella devi andare a dormire speriamo che la guerra in tutto il mondo cominci prima perché altrimenti è un problema quindi credo che ci sia un tema enorme un dramma perché avrebbero dovuto pensarci prima i democratici diciamo la verità questi segnali su Biden c'erano quando ero in America perché Biden è sempre ha sempre peggiorato di mese in mese non politicamente secondo lui ha fatto delle scelte giuste ma dal punto di vista della tenuta psicofisica e soprattutto di non fare quello che gli americani chiamano passare la torcia pass le torce creare una nuova classe dirigente del domani questo non l'ha fatto ha tenuto a sé il potere come fanno tanti vecchi leader però in Cina e in Russia ma non nei paesi democratici dove ad esempio Starmer è un bel esempio di rinnovo della classe politica con tutte le incognite però con cosa mi piace di Starmer con nessun populismo e nessuna con così nessun cedimento all'effetto ma con fare l'idraulico quello che ti risolve i problemi che poi è l'unico modo per sconfiggere i populismi secondo me batterli sul terreno della concatenza comunque parlando di Biden questo è un dramma Johnson si dimide con grande gesto che gli chiedono di fare anche a lui allora alla fine vinse Nixon questa volta potrebbe vincere Trump allora Luca tu hai un libro opposizione l'ultima battaglia di Enrico Berlinguer a proposito di comunisti Rampini sul Corriere della Sera questa mattina si chiede se Biden diventerà come il russo Bresnev e beh c'è il rischio Bresnev e anche Andropov fu un comunismo crepuscolare proprio il mio libro parte dal funerale di Mosca che per Berlinguer è la fine del comunismo reale Andropov se vi ricordate era ammalato a un certo punto uscì un comunicato il compagno Andropov è stato colpito da un leggero raffreddore e il giorno dopo morì ecco Biden vive un po' questa condizione ne ho vista un'altra un audio radio in cui dice sono orgoglioso di essere la prima la prima donna vicepresidente nera della storia americana probabilmente voleva dire di aver avuto la prima donna vicepresidente nera però il segnale è questo diceva giustamente di Bella deve dormire prima delle 8 ma deve anche non alzarsi prima delle 11 forse deve fare il riposito dopo pranzo io mi chiedo quale segnale di fragilità delle democrazie sia quella di un presidente americano che è in queste condizioni ma quale comandante in capo e quest'uomo spende 70 miliardi di dollari per una guerra neanche sapendo in quale continente si trova cioè quindi è veramente una condizione molto grave c'è Blinken che lo sa però eh? sì è Blinken che lo sa ma la democrazia non è la corte la democrazia è la responsabilità diretta di un uomo eletto dal popolo quindi capisco cosa intendi dire ma per noi è un significato molto grave di indebolimento però dire che non sa quello che sta succedendo mi pare un pochino forzato e talvolta ha sbagliato un paese ha confuso il Venezuela con l'Ucraina ce ne ha fatte una più di Bertoldo ma ripeto la mia battaglia di radicalità è o la democrazia avrà delle facce rispettabili e credibili investite da un mandato popolare oppure arrivano le democrature oppure arriva quel Trump che abbiamo visto ieri in un video rubato che sopra un cadi di un campo da golf insulta tutti con un gergo da bar e quindi siccome ci tengo al fatto che ci possa essere una democrazia diretta sono preoccupato di tutto questo mi chiedo come sia potuto accadere questa copertina del deambulatore è splendida è feroce è lucida però forse l'anticorpo doveva scattare qualche anno fa Alexander Alden c'è una vecchia storiella se non ricordo male ma questo lei me lo confermerà che dice che tutte le mattine il vicepresidente degli Stati Uniti va a bussare alla porta del presidente per chiedergli se sta bene allora io le chiedo quante sono le possibilità che Kamala Harris possa sostituire Biden nessuno ha la sfera di cristallo ma soprattutto lei che conosce i meccanismi delle primarie è credibile la sostituzione di una persona che ha un tale potere e che è attualmente il presidente in carica ricordiamolo ci sono due dimensioni su questo una è la dimensione della scelta politica se mettersi da parte a questo punto o no siamo vicinissimi al convegno e siamo anche molto vicini alle elezioni solitamente nella storia politica degli Stati Uniti non si cambia candidato così tardi qualcuno ha menzionato prima Johnson e poi la vittoria di Nixon ma c'è anche la questione di Ford e l'eventuale vittoria di Carter cioè quando Ford è stato sfidato internamente nel 1976 da un candidato che si chiama Ronald Reagan che poi è vinto nel 1980 penso che politicamente è una è una scommessa un po' azzardata cambiare il candidato in questo momento da un lato ma da un lato ci sono queste cose che sono adesso ovvie cioè erano ovvie a moltissimi in precedenza però si aspettava fino all'ultimo momento al dibattito ci si diceva che Biden è la sua migliore versione lucido eccetera poi abbiamo scoperto che non lo era poi c'è l'elemento un po' più tecnico e anche legalistico di cambiare il candidato cioè se siamo in tempo in alcuni stati ad avere un altro candidato se si possono se si possono i delegati al convegno se sono se sono schierati non solo politicamente ma se hanno anche un obbligo di eleggere quello che era vincitore delle primarie in quegli stati queste sono tutte questioni apertissime all'ultimo minuto quindi la mia opinione è che si potrebbe fare un cambio di candidato e probabilmente sarebbe Kamala Harris sarebbe la cosa più più diretta come scelta come processo però il partito democratico si trova in una posizione molto 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 sfavorevole se rimane sia con Biden o se cambia un po' l'ultimo minuto grazie mille Edoardo e Claudia sì no no ma prego vai avanti pure volevo dire una cosa come dire assalto di tutto ciò assolutamente no allora però a parte che come dire Biden come dire mi dicono io ho avuto modo di vederlo in Puglia al G7 e anche i giornalisti americani dicevano che comunque c'è stato un crollo proprio negli ultimi mesi quindi probabilmente sul capirlo prima che doveva essere messo da parte forse non era così semplice detto ciò sicuramente l'ha fatto da parte cioè sicuramente non è più in grado di gestire non dico prossimi tre mesi ma prossimi anni però di tutto il ragionamento che stiamo facendo fra Gran Bretagna adesso non so se sto andando fuori tema e se lo faccio fermami fra UK fra Stati Uniti eccetera c'è l'Europa che è il grande come dire il grande soggetto di tutto questo di tutto questo racconto che stiamo facendo di questo racconto sfruttare il vento positivo secondo me che viene da da Londra e da tutto il Regno Unito per rafforzarsi rafforzarsi verso una direzione ovviamente ma rafforzarsi in fretta presto ricordiamo che il 18 luglio ci sarà il voto a Strasburgo che dovrà completare il percorso del bis della 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 von der Leyen e va fatto tutto questo va fatto molto in fretta perché l'Europa non si può permettere di arrivare al 5 di novembre quando ci sarà l'elezione americana senza avere molto chiaro qual è la sua governance quello che deve fare le scadenze e le cose da fare subito c'è una sorta di corse in questa cosa e tutto questo deve avvenire nel semestre in cui Orban ha la presidenza di turno mi permetto di dire che la presidenza Orban un po' rallenterà questo percorso quindi a maggior ragione dobbiamo fare presto e bene anche ovviamente Edoardo Narduzzi Antonio Di Bella raccontava di un Biden che deve andare a letto presto ma in Gran Bretagna hanno fatto scalpore le dichiarazioni del nuovo primo ministro che speriamo che arrivi a Downing Street durante la trasmissione perché vedo che continuano ad arrivare le immagini eccolo qua del numero 10 Downing Street il nuovo primo ministro che ha detto signori io il venerdì sera alle 6 non mi rompete le scatole perché voglio passare il weekend con la famiglia è così ma no è così perché lui vuole apparire come molto inglese britannico che il paese dopo le 6 si mette davanti alle news serali e poi al massimo si fa una pinta al bar al pub no Starmer Starmer lavorerà lavorerà moltissimo lavorerà da subito deve dare messaggi subito deve far capire al paese questo è un paese che di fatto nell'ultima legislatura non è stato governato dai conservatori Boris Johnson vince bene le elezioni in autunno del 2019 porta a casa la Brexit a fine anno del 2019 festeggiano fuochi d'artificio ce l'abbiamo fatta abbiamo vi abbiamo dato il sogno per cui avete votato gli europei sono fuori dalle scatole l'immigrazione è sotto controllo finalmente potremo diventare una grande tornare a essere una grande potenza globale parafrasando quello che era stato sempre un motto di Churchill tra il mare aperto e l'Europa preferiremo sempre il mare aperto e questo era quello che Johnson ha venduto poi scoppia la pandemia e finisce il governo Johnson il paese non è più governato dal marzo del 2020 nel senso che Johnson comincia e i suoi ministri cominciano a inanellare scandali su scandali il ministro della salute che si trova ad amoreggiare nel suo studio con la sua assistente in piena pandemia è costretta a dimettersi questo è molto british che organizza festini a Downy Street arriva Litz Truss adesso non ce lo ricordiamo ma Litz Truss è la più breve prima ministra della storia del Regno Unito e praticamente è costretta a dimettersi dai mercati finanziari come un qualsiasi governizio italiano della prima repubblica cioè la sterlina entra in tensione si svaluta i fondi pensione sono costretti in automatico a vendere i GILT cioè i BTP del governo inglese perché si erano talmente depreciati dopo la presentazione della finanziaria di Litz Truss che praticamente la banca d'Inghilterra deve intervenire sul mercato comprare i GILT cioè i BTP del governo britannico e garantire che il paese possa pagare stipendi e pensioni al settore pubblico a fine mese cacciano Litz Truss non la cacciano i conservatori la cacciano i mercati arriva Sunak Sunak non governa mai Sunak è un billionaire che non ha coraggio non ha leadership infatti il grandissimo sconfitto di queste lezioni anticipate che lui ha chiamato pensando di recuperare qualcosa perché i dati sull'economia sono un po' migliori oggi l'inflazione è un po' più sotto controllo rispetto a qualche mese fa Sunak viene praticamente non entra mai in sintonia con il paese non governa mai nulla non governa neanche il suo partito che continua a essere diviso e continua a creare una serie di problemi e quindi oggi Starmer deve ridare al paese un governo che negli ultimi cinque anni non ha mai avuto e quindi io non credo che andrà a dormire alle sei di sera ma che lavorerà moltissimo insieme alla sua squadra se mi consenti voglio dire una cosa sulla parte sulle azioni americane secondo me alla fine sarà Silicon Valley a decidere se è possibile sostituire Biden o meno perché negli Stati Uniti oggi ci sono cinque o sei aziende si chiamano Big Tech che capitalizzano dai due e tre mila trilioni di dollari e che rappresentano di fatto la borsa americana che oggi sono ancora favorevoli a una candidatura democratica ma che sono sempre più insofferenti verso Biden e se le varie Big Tech cominceranno a non staccare gli assegni per la campagna elettorale per Biden e per i demorani sarà molto difficile perché il resto dell'economia americana e cioè i settori più tradizionali il manifatturiero l'oil e il settore bancario sono molto più vicini a Trump e ai repubblicani storicamente e anche in queste elezioni e prima di andare in pubblicità non posso non chiedere un commento ad Alden visto che lui frequenta questi ambienti io direi che anche Silicon Valley non è monolitica in questo senso ci sono molti imprenditori a Silicon Valley che favoriscono i repubblicani però quelli che favoriscono molti dei grandi benefattori che favoriscono un partito democratico stanno cambiando strategia cioè non cercare un candidato presidenziale all'ultimo momento ma spostare i soldi verso il congresso cioè verso le campagne elettorali per il senato per la cosiddetta la versione americana della Camera dei Deputati quindi c'è un hedge nella strategia dei benefattori che si muove in quella direzione allora io vorrei chiedere a Luca Telese ed Antonio Di Bella abbiamo sentito Nerduzzi che ci ha parlato della scommessa di di Sunac di indire elezioni anticipate dopo domani un genio come Macron avremo un'altra un'altra scommessa grandi strateghi ma c'è la pubblicità lo diciamo dopo c'è la suspense no abbiamo tre minuti li volevo condividere però si fa chiarezza anticipando il voto tra voi due e sentiamo subito Claudia allora guarda lo dico in un minuto per non rubare tempo di Bella e poi continuiamo intanto quella non è solo una sconfitta di una serie di persone ma è la sconfitta di un'ideologia quindi c'era un'illusione neoliberista la sanità abbandonata niente più il sistema pubblico è crollata la gente si è ribellata la scommessa di Macron è altrettanto suicida cioè ha rischiato di consegnare sta rischiando di consegnare la maggioranza assoluta a una forza che vuole dividere la Francia se scatterà un riflesso finale di reazione democratica repubblicana non sarà certo merito suo però Macron a riferimento di Suna che è completamente espulso dalla storia può dire che questa mossa azzardata perché lo è forse come vedremo fra poco impedisce la maggioranza assoluta alla destra e potrebbe creare degli anticorpi poi in realtà tutti questi giochetti lasciano il tempo ai problemi che vanno risolti o a destra o a sinistra e sia Macron che Suunac hanno dimostrato di non essere in grado di farli stando in sintonia con il paese che è il motivo per cui le democrazie esistono non sono autocrazie benissimo non so se possiamo andare già subito in pubblicità in maniera tale che poi il minuto che guadagniamo adesso lo spendiamo nella aggiungo ma nei due minuti che andranno per collegarmi al bel libro di Luca che in America oggi si dice è stato un dibattito fra Bresdia e Andropov perché anche Trump è un bel rimbambito e un po' criminale quello che ci manca è un gorbo a ciaufa americano e questo è clamoroso benissimo pubblicità ci vediamo subito dopo eccoci di nuovo in diretta do il benvenuto a Maurizio Carta giornalista finanziario di Alliance News buongiorno Maurizio buongiorno Frediano buongiorno a tutti voi allora Edoardo Anarduzzi ci parlava dell'importanza dei mercati che sotto l'ITZ-TRAS hanno di fatto cacciato appedato nel sedere il loro ministro dell'economia che aveva fatto delle proposte abbastanza bizzarre come hanno preso i mercati questa slavina britannica? Ma diciamo che adesso attendiamo l'apertura dei mercati europei se ti posso dare però un indice di riferimento noi che operiamo nel settore quindi andiamo ad analizzare bene quelli che sono i movimenti il mercato aveva già ampiamente scontato tra l'altro ci siamo anche focalizzati sui movimenti della sterlina che all'uscita dei primi exit poll è praticamente istanzialmente rimasta flat come si dice in gergo nel senso che è rimasta piatta si muove intorno all'1,27 ancora con il dollaro che è insomma la valuta di riferimento i mercati erano ben preparati e se posso aggiungere una cosa spesso anche da parte insomma dei conservatori è sempre paventato il fatto che i laboristi siano meno amici diciamo degli operatori finanziari dei mercati anche se questo alla fine insomma non si è rivelato e quello che possiamo annotare è che di recente vedevo proprio anche uno studio sulla stima di quello che i servizi finanziari danno al prodotto interno dell'or del Derni Unito si aggira intorno al 10% più di 100 miliardi di sterline di getito fiscale quindi non credo che il nuovo premier britannico voglia mettere il bastone fra le ruote e voglia rinunciare a questa grossa fetta che porta avanti l'economia britannica soprattutto dopo gli anni della deindustrializzazione ecco grazie Antonio allora noi ragioniamo sempre di quali possono essere i contraccolpi di elezioni che si svolgono in questo caso nel vecchio continente ma al di là della manica abbiamo già anticipato che la Gran Bretagna in molti campi va avanti e c'è chi osserva che il nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni perde un alleato un alleato conservatore ma soprattutto come osserva anche Enrico Letta in un'intervista a Repubblica dice il voto di oggi punisce i responsabili di quella che fu una gigantesca cavolata che abbiamo pagato tutti gli inglesi noi europei e la comunità internazionale che è la Brexit vedendo come è finita la Gran Bretagna anche sul versante della destra degli euroscettici si prosciuga un po' questo argomento beh si prosciuga anche se nell'Europa continentale il soranismo e le destre sono ancora forti come dimostrano i venti che spirano in Francia però diciamo che per la Meloni ha un doppio guaio diverso cioè da una parte non ha più Sunak che era un suo alleato in alcune battaglie identitarie in particolare sull'immigrazione pensiamo Rwanda Albania dall'altra parte un Trump che vince la mette in difficoltà perché lei è diventata la cocca di Biden che l'ha baciato l'ha filonato e quindi a questo punto riesce ad essere scavalcato dai sovradisti più duri e puri Salvini in Italia ma anche tutta Orban e tutti gli altri e quindi ha un doppia problema di lealtà che la mette in difficoltà su tutto questo c'è il cacio sui maccheroni ci saranno le crisi economiche cioè il problema di deficit e di non avere più soldi per la manovra quindi insomma è un autunno in cui si concienziano molti problemi e il cui più evidente è la perdita di un partner così importante anche come immagine di Sunak in Inghilterra grazie Edoardo Narduzzi arriva un'agenzia Farage il paladino della Brexit è stato eletto per la prima volta alla Camera dei Comuni il suo partito ricordiamo si chiama Reform UK ha preso quattro seggi ecco il nuovo primo ministro probabilmente si troverà due voci molto molto rumorose che sono in Parlamento che sono Farage ma anche Jeremy Corbyn che è stato eletto sia pure come indipendente ricordiamo aveva cacciato al partito è così? Sono gruppi parlamentari irrilevanti nel Parlamento britannico c'è un altro dato che non è commentato ma che è importante sottolineare ci sono molti indipendenti che si sono candidati in collegi Labour pro Palestina che hanno battuto il candidato Labour quindi abbiamo ci saranno alcuni deputati sicuramente superiori a quelli di Farage che sono eletti da indipendenti come dire in dissonanza rispetto al Labour perché diciamo critici su quello che sta accadendo nel Medio Oriente in particolare in Palestina quindi è un Parlamento britannico che diciamo vive nel mondo contemporaneo e quindi rappresenta vari movimenti della società britannica che chiaramente non è più omogenea come era ai tempi della baronessa Thatcher o non è diciamo come dire ricollocabile solo in due involucri i conservatori e i laburisti come era qualche decennio fa Farage cosa farà Farage i voti li ha presi è il terzo partito ha disintegrato i conservatori ricordiamoci che nel 2019 Boris Johnson ebbe quella vittoria schiacciante perché aveva fatto un patto di desistenza con Farage che non presentò i suoi candidati proprio perché Boris Johnson aveva promesso che avrebbe fatto la Brexit che avrebbe portato a casa la Brexit che nel governo di Theresa May che durò due anni non era mai anzi un po' di più perché Theresa May anche lei chiamò delle elezioni anticipate nel 2017 per cercare di avere una maggioranza per portare a casa una Brexit da non Brexitier qui è tutto un gioco di parole molto britannico poi anche la May si ritrovò con una minoranza parlamentare aveva un governo che era sostenuto da alcuni deputati nordirlandesi unionisti quindi molto identitari anche dal punto di vista religioso oltre che territoriale cosa cosa significa significa che Farage qualcosa proverà a fare anche perché ha un partito conservatore indebolito che non sappiamo neanche chi sarà il leader adesso del partito conservatore sono stati fatti tutti fuori anche il capogruppo parlamentare la Penny Mordaunt è stata non eletta è stata trombata quindi praticamente non c'è più classe dirigente nel partito solo Sunac entra in Parlamento Farage però è una macchietta cioè Farage va bene nei pub di provincia va bene diciamo ha preso tanti voti in molti collegi e sopra i conservatori anche se non scatta il suo deputato oggi la notizia è che Londra è labor un terzo del pil britannico è prodotto la grande Londra il sindaco di Londra che ha ottenuto il terzo mandato è un sindaco labor ed è un sindaco pro Europa dove non c'è il labor a Londra ci sono i liberal democratici che sono europeisti al 100% l'engine politico economico finanziario tecnologico della Gran Bretagna ha scelto politicamente dove stare Farage potrà continuare a fare le sue bevute di pinte di birra e a fare battute da modeste da politico di serie B non credo che avrà alcuna possibilità né adesso né in futuro di avere una qualche ruolo di governo nel Regno Unito grazie mille Alexander Alden mentre la collega Claudia Fusani diceva che sostanzialmente l'Unione Europea deve prepararsi anche in previsione del voto per la conferma di Ursula von der Leyen Presidente della Commissione io vedevo che lei scuoteva la testa le posso chiedere perché? Sì perché penso che poi il commento era anche nel contesto di fare causa comune con il Regno Unito quindi Regno Unito Unione Europea ha una potenziale avanzata l'elezione di Trump e quindi prepararsi per un quello che sembra sarebbe uno scontro prima di tutto penso che la Gran Bretagna ha un modo tutto suo di relazionarsi con gli Stati Uniti e da questo la relazione speciale e c'è un atteggiamento molto diverso in Gran Bretagna in generale se vediamo come si atteggia in Germania in Francia in Italia sulle questioni americane sulle elezioni americane non si fa tifo si tiene uno spazio aperto per le relazioni vorrei far notare che David Lamy che è il segretario di Stato segretario per ministro degli affari esteri praticamente ombra dei laboristi è venuto spesso in questi due, tre, quattro mesi in Washington per fare dei discorsi dei confronti con i repubblicani per creare delle connessioni che non siano necessariamente di tipo politico per mantenere questa relazione speciale e non settiamo nel Regno Unito tifo delle dichiarazioni di potenziali candidati o di vertici laboristi che indicano antipatie in Europa sentiamo questo spesso in Italia anche e penso che l'analisi spesso qua è basata su relazioni personali uno e poi su insomma affiliazioni politico-ideologiche e spesso si dimentica che queste relazioni sono altamente strutturate e istituzionalizzate vi dico anche che ha trappelato che Trump ha fatto dei commenti molto favorevoli su Stammer quindi non c'è questo discorso che magari lui dovrebbe essere più orientato a favorire i conservatori e le reform quindi una prontezza di lavorare con chi che sia e penso che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna nonostante magari due binari diversi politici continueranno a collaborare e poi nell'Unione Europea non so se questi bilanci a Bruxelles saranno così decisivi e dovrebbero orientarsi così tanto verso gli Stati Uniti o contro gli Stati Uniti quindi anche lì Trump se viene eletto troverà modi di relazionarsi con capi di governo europei e anche con la Commissione lì dove bisogna e serve quindi vorrei indicare che dobbiamo un po' anche fare un'analisi che è basata su strutture e relazioni istituzionali a prescindere da simpatie politiche e anche quelle personali quindi la Meloni va d'accordo con Sunak o no oppure può avere anche una sintonia con il nuovo primo ministro Claudia posso? Eh certo devi Sì no insomma allora al di là delle relazioni personali che non credo che come dire insistano su quello che stiamo dicendo che abbiano a che fare qui il problema è la tenuta delle democrazie la tenuta largine per la difesa dei diritti perché francamente ci sono alcune leadership e una di questi sicuramente è Trump per quello dal mio modestissimo punto di vedere ma insomma che riguarda anche molte altre persone quindi di questo stiamo parlando non di difesa di interessi di amicizie di relazioni stiamo parlando della tutela e del rafforzamento delle democrazie che in questi anni purtroppo con questo vento populista di destra e di sinistra a mio avviso sono state fortemente messe e come dire a dura prova e quindi quello di cui stiamo parlando è esattamente questo la difesa il rafforzamento del sistema della democrazia imperfetto quanto si vuole ma pur sempre quello che ci garantisce di più e quindi semplicemente questo non voglio mettere a far polemica con il professore non so a cosa si riferisse quando ha fatto questo intervento è stato un po' vago a mio modo di vedere ha buttato un sasso un pochino polemico non so a cosa si riferisse cioè nel senso Trump può anche parlare bene aver dato un giudizio positivo su Starmer però francamente no adesso noi non sapremo bene quello che farà Starmer così come non sapremo bene quello che farà Ursula von der Leyen se sarà confermato il bis io mi auguro che faccia finalmente qualcosa di importante e di come dire che dia il segno di un'Europa che che fa di un'Europa che prende in mano le situazioni che le porta avanti e non che le subisce spesso e volentieri però ecco io non ho nulla credo che non ci sia nulla che possa essere che possa essere condiviso tra Trump e Ursula von der Leyen non sto parlando di Italia adesso e credo che ci sia molto poco perché Starmer è un signore prima sentivo che stavate ricordando questa cosa che lui ha detto io non posso lavorare dopo le sei è stato fonte di grandi di lunghi articoli in questi giorni in Inghilterra questa cosa poi semplicemente banalmente siccome lui per quanto si definisca ateo comunque la moglie ebrea e loro osservano molto il sabato il sabato ebreo quindi c'è anche una questione di abitudini familiari ma è verissimo quello che ha detto che sarà invece una persona che lavorerà sempre quindi ci sono anche un po' un po' di luoghi comuni che un po' di battaglie che vengono come dire che lasciano molto il tempo che trovano il tema oggi è la difesa delle democrazie perché le democrazie che non decidono e non governano come dire si perdono di mano e diventano dittature democrature come si come si dice adesso come piace dire adesso ecco quindi questo la difesa delle democrazie allora Antonio se posso riassumere un attimo il senso della della conversazione molto appaccata che c'è stata tra i nostri ospiti è che Alden diceva voi in Europa siete un po' troppo partigiani poi dovete rendervi conto che quando arriva al potere un primo ministro un presidente si trova ad avere a che fare con altri presidenti altri primi ministri quindi bisogna darci una calmata perché poi intervengono ragioni di stato è così? allora mi viene molto Churchill quando lo invitavano a non occuparsi dell'Europa e a privilegiare il rapporto con gli Stati Uniti e lasciare l'Europa nazisti e dominare sui mari e lui rispose se fossi sicuro che io potrei lasciare l'ancora e far navigare come una nave la Gran Bretagna verso le coste americane lo farei ma invece noi siamo a un passo e siamo un pezzo dell'Europa e quindi devo occuparmene come dire è vero che c'è una special relation fra Londra e gli Stati Uniti che rimarrà sempre ma è vero quello che dice Claudia che la presidenza Trump mina i fondamenti della struttura parlamentare liberale democratica e io l'ho visto con i miei occhi quando ho visto gli sgherri di Trump dare l'assalto al simbolo della democrazia parlamentare mondiale cioè Capitol Hill quindi Starmer è quello che era la Merkel cioè un contraltare naturale a Trump lo vorrà fare farà privilegiare gli interessi economici americani oppure si porrà questo compito così gravoso questo lo vedremo ma indubbiamente sulla carta ci sono due modelli la democratura che fa a pezzi i diritti parlamentari e invece il riformismo laborista che del Parlamento ha grande stima questa è la sfida che abbiamo davanti grazie mille Antonio ricordo il tuo libro l'impero in bilico edito da Solferino so che è un appuntamento ti ringrazio per essere stato con noi questa mattina adesso andiamo in pubblicità poi non so se Alexander Alden vuole aggiungere qualche cosa io però ho anche un altro argomento che rivolgerò a Luca Telese e ai nostri amici collegati oltremanica pubblicità e torniamo tra poco eccoci di nuovo in diretta per l'ultimo blocco di Omnibus Alexander Alden non so se lei aveva qualcosa da aggiungere rispetto a quello che ha detto Antonio Di Bella e Claudia Fusani giusto per il diritto di replica due osservazioni una sulla questione dell'analisi politica vorrei dire che sono sorpreso che siamo continuamente sorpresi sono ormai dieci anni che a volte i sondaggi e alcune analisi ci indicano quello che dovrebbe succedere a queste o quelle elezioni e ci troviamo sempre un po' sorpresi adesso ci troviamo davanti a una elezione lavorista che era altamente prevista e prevedibile alle europee era la stessa cosa per le elezioni americane i sondaggi già da un po' ci indicano una potenziale vittoria di Trump che adesso potenzialmente accelera con questo dibattito quindi continuiamo a sorprenderci e penso che questo è a causa della seconda osservazione che volevo fare è che è un'osservazione che praticamente ci troviamo sempre ormai da tantissimi anni in un referendum dove è la fine del mondo è la fine della democrazia o no però la democrazia continua ad andare avanti grazie a Dio parte del processo anche questo forse surplus di attivismo populista che è anche un sintomo di una democrazia penso abbastanza funzionante perché ci dà un feedback e direi anche sulle debolezze di Biden questo era parte del gioco nel senso che la dinamica politica della democrazia per esempio americana era che repubblicani che vanno contro i democratici contro Biden avevano già da un po' segnalato queste debolezze di Biden che sono state sistematicamente ignorate e messe da parte e presentate come cose che non vere false complottiste eccetera e poi all'improvviso tutti i media dopo un paio di settimane prima del dibattito dicevano che Biden era fortissimo a dire insomma qua sta collassando tutto quindi penso che queste due cose sono connesse una l'analisi e la mancata osservazione quindi non solo col seno di poi a vedere quello che sta per arrivare numero uno e numero due questo aspetto del sempre gridare al lupo che magari la gente poi a un certo punto non si non se ne accorge neanche più Maurizio Carta è molto è molto scusami io questo professore non so se è un professore Alden però non so dove viva francamente ecco vabbè un analista un osservatore mi scusi lei si rende conto che ci sono delle famiglie che non riescono a fare la spesa ci sono delle famiglie che non riescono a pagare gli affitti e si rende conto che il mondo probabilmente non è solo quello che vede lei con le sue lenti no? cioè non è che uno grida al lupo il mondo è fatto di tanti aspetti di tanti punti di vista e qui nessuno sta gridando al lupo però è giusto osservare quello che è la vita vera e la vita vera dice che la maggior parte delle persone non vivono bene e quindi questi sistemi non stanno funzionando capisce? è molto semplice ma quelli votano Farage se posso rispondere no, quelli non votano Farage quelli non votano Farage purtroppo quelli non votano Farage quelli non vanno a votare le penne Farage quelli non vanno a votare quelli non vanno a votare non votano né le penne né Farage purtroppo non vanno a votare quindi parlare di questo non è gridare al lupo o come dire fare analisi di parte in qualche modo partigiane parlare di questo vuol dire le democrazie sono sempre più forti sono tre anni che soppongono all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia le democrazie si vota si vota si adattano ai tempi in cui le pressioni si esprimono non è vero che sono deboli le democrazie o che si stanno indebolendo questo è un dibattito molto dell'Europa continentale le democrazie sono forti ma le democrazie lei che cosa intende mi scusi per esempio scusate forse non è primario per voi il diritto all'aborto è un diritto appartiene alla democrazia o no? capisco che non è un tema ma c'è un dibattito negli Stati Uniti ma le democrazie sono complessi ci sono vali livelli istituzionali negli Stati Uniti la Corte Suprema ha revocato la sentenza Roy Wade ma ci sono molti stati che hanno poi mantenuto la loro legislazione dove l'aborto è possibile non esiste questo mondo uniforme scusate scusatemi un attimo però no 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 per una questione di correttezza e anche perdonate l'espressione grammatica televisiva non infiliamoci nella questione dell'aborto perché non è la tematica di questa trasmissione allora io volevo chiedere a Maurizio Carta e tu hai scritto ti ho chiamato perché hai scritto un bell'articolo su The Post Internazionale in cui oltre a parlare dei laburisti e dei conservatori parlavi anche dei piccoli cioè che cosa accade la Gran Bretagna è molto complessa cosa accade agli scozzesi cosa accade ai nord irlandesi noi ci siamo occupati del referendum ci siamo occupati degli accordi di benedì santo cosa accade a loro? ma esatto diciamo che nelle periferie insomma c'è stato abbastanza movimento negli ultimi anni nel senso che abbiamo visto insomma negli ultimi dieci anni succedere di tutto come per esempio l'impensabile allora impensabile il referendum scozzese dove vinse la parte che insomma intende rimanere con il Regno Unito ma quella parte viste le elezioni insomma i conteggi che si avviano alla chiusura vede l'S&P cioè il partito primario dell'indipendentismo scozzese portare veramente pochi parlamentari questa volta Westminster contro le decine di parlamentari delle ultime volte quindi diciamo che si mette una sorta di pietra tombale per adesso sull'S&P sull'indipendentismo scozzese io adesso guarderei quello che succede su questo versante cioè su quello del separatismo da Londra sul Nord Irlanda perché segnalo che lo Sinn Féin che è il partito indipendentista che punta all'unificazione nordirlandese adesso è quello più rappresentato non solo in Nord Irlanda ma anche a Westminster per la parte nordirlandese dove ha confermato sembra i seteseggi astensionisti perché i parlamentari dello Sinn Féin non si presentano a Westminster perché non riconoscono l'autorità britannica quindi se da una parte nella parte scozzese viene confermata la forza dei laboristi e quindi diciamo l'annientamento a Londra dell'S&P nel Nord Irlanda si conferma la forza praticamente indipendentista anche se lì la materia del referendum è ancora più aperta perché per fare un referendum in Nord Irlanda non ci vuole il supporto di Londra se non praticamente deciso a livello istituzionale se ci siano tutte le condizioni per poter fare il referendum e sembra in questo momento dagli ultimi sondaggi che i tatti cattolici siano in maggioranza però questa è una materia molto ostica perché i referendum si fanno una volta forse in decenni quindi se i laboristi hanno rinforzato sicuramente l'asse diciamo centrale del Regno Unito cioè la sua unificazione se avranno qualche prurito scusami questa metafora frediano potrebbero avercelo dal Nord Irlanda perché comunque si è confermata la loro forza chiarissimo insomma grazie mille adesso noi abbiamo ancora una decina di minuti e vorrei parlare con Luca e con il nostro con l'altro amico con Edoardo Narduzzi non mi veniva il nome il cognome sì mi scuso di una questione che sta attraversando sia le elezioni francesi e che ha attraversato anche le elezioni britanniche che è l'antisemitismo perché come ci ha detto se non ricordo male Claudia il nuovo premier britannico ha una una moglie ebrea per cui il suo desiderio di stare a casa durante il weekend vive anche dall'osservanza dello Shabbat e i laboristi Narduzzi di Jeremy Corbyn erano accusati di essere fortemente antisemiti io ho un ricordo personale avendo seguito delle elezioni in Gran Bretagna mi dissero i laboristi che Corbyn metteva appositamente le riunioni di partito il sabato per estromettere chi era di fede ebraica non so se questo sia vero fatto sta che questa è stata una tematica questa è anche una linea di rottura del nuovo premier laborista Narduzzi poi vorrei sentire anche Telese riguardo questa volta anche alla Francia allora io non so come se facesse le riunioni il sabato mattina Corbyn è chiaro che Corbyn aveva lui stesso una parte del suo gruppo parlamentare avevano sicuramente dei problemi non erano antisemiti ma avevano una non simpatia probabilmente verso quel tipo di mondo io non credo che la Gran Bretagna e il Regno Unito sia un paese antisemita è chiaro però che il fatto come dicevo prima che ci sono diversi indipendenti uno è stato appena dichiarato qualche minuto fa che battono i candidati ufficiali del partito laborista dichiarandosi pro palestinesi questi indipendenti questi candidati indipendenti escono dal labor non solo e non tanto perché sono contrari alla politica sia di Sunak che di Starmer di totale non di appoggio incondizionato Israele perché il governo inglese ha criticato quando ha potuto ha criticato il governo Netanyahu per l'uso eccessivo della forza o della rappresaglia o della risposta in termini militari però è chiaro che c'è una parte del labor che è molto vicina a a causa palestinese c'è stata una miniscissione se parliamo di 6 o 7 persone che verranno elette come pro palestinesi che in un sistema elettorale come quello britannico non sono pochi perché Farage prenderà con più di 4 milioni di voti prenderà 4 deputati poi che Starmer possa avere problemi di antisemitismo nel suo governo e nel suo partito lo escludo a priori perché non credo che faccia parte di questo gruppo parlamentare laborista un sentimento maggioritario antisemita è chiaro che nel Regno Unito adesso sarà uno dei problemi che il nuovo governo dovrà affrontare quanto essere allineati con la risposta militare di Netanyahu soprattutto se Israele nei prossimi giorni entrerà nel Libano del Sud entrerà militarmente una nuova guerra se ci sarà una reazione da parte dell'Iran avendo entrando in campo anche Hezbollah che è una fazione militare armata dall'Iran nel Sud del Libano quindi qui Starmer giocherà in campo aperto perché sarà una delle prime prove di politica internazionale che il suo governo che ha già dichiarato che sull'Ucraina non cambia nulla rispetto alla politica pro-Ucrania del governo conservatore ma nel caso del Medio Oriente è molto più complesso Luca beh l'antisemitismo è un sentimento odioso orribile una feccia che riemerge nella storia in modo ricorrente e lo ha spiegato molto bene Liliana Segre ma purtroppo ora l'antisemitismo diventa anche un alibi per criticare chiunque critichi la politica non solo di Israele ma di Netanyahu quindi se uno dice le cose che ha detto il capo di Stato maggiore che è responsabile per i media dell'IDF l'esercito israeliano in Italia può essere tacciato di antisemitismo e magari anche in Gran Bretagna cioè diventa un'argomentazione per squalificare qualcuno Netanyahu si può criticare anche Israele si può criticare non vuol dire essere antisemiti criticare la politica di un governo tanto è vero che persino Primo Levi criticò Israele come ricorda molto bene nel suo bel libro Gad Lerner ai tempi dell'invasione del Libano quindi in questo momento è molto difficile tenersi di equilibrio fra la demagogia che alcune volte è una copertura per l'antisemitismo e anche il tentativo di strumentalizzare di dire no chiunque critichi Netanyahu sbaglia in questo momento il tema è Gaza abbiamo fatto sparire Gaza dal dibattito in quel territorio sono stati uccisi dalle vittime innocenti esattamente come erano innocenti le vittime del 7 ottobre quindi in questo momento io detesto l'appiattimento dei popoli su chi li governa ovvio che si è contro Hamas mozza orecchie e assassini e ovvio che si può essere anche contro la politica di Netanyahu che sta come dire soffiando sulla guerra come unica garanzia per restare al potere abbiamo 5 minuti posso dire una cosa? certo Claudia a proposito di questo mi è interessato molto stanotte quando tutti questi analisti dicevano la seguente cosa sono andati a votare molti giovani proprio molti giovani pro Gaza pro Gaza non vuol dire essere pro Hamas ovviamente però vuol dire essere sicuramente contro il governo di Bibi eccetera allora il sistema di voto inglese però impedisce per lo più britannico queste minoranze di andare avanti perché è un sistema secco chi vince vince tutti gli altri hanno perso allora siccome ci riea il dibattito anche in Italia siamo un paese fortemente bipolare attenzione nessun paese è veramente bipolare perché proprio perché siccome siamo in delle democrazie ci si vuole esprimere e appunto come dire esprimersi decidere non vuol dire solo bianco o nero ci sono ci sono dei grigi ci sono degli aranci ci sono tante sfumature a cui secondo me un vero sistema democratico deve dar conto e quello che è successo che è successo in Inghilterra col voto è proprio che molti giovani sono tornati a votare sono tornati a votare per quello che sta succedendo a Gaza perché quella è stata una spinta fortissima anche il voto in EU è stato è stato molto segnato dal discorso giovani e dal discorso Gaza e però non riescono a trovare sì qualcuno è passato come indipendente però probabilmente attenzione a sistemi di voto bipolari secchi perché non sono quelli che rappresentano al meglio l'interesse delle persone le passioni insomma e qui c'è il discorso di Mattarella sulle minoranze che hanno diritto a rappresentanza cittadinanza essere garantiti e dovremo incorniciare e far diventare una bandiera una chiosa velocissima ad Alden Narduzzi e Carta c'è un grafico che prego la regia di mostrare che ho preso dall'agenzia di stampa Bloomberg dove dice che queste elezioni britanniche c'è stata la più bassa affluenza da oltre cento anni Alden una sua valutazione nella culla della democrazia sulla questione britannica lascio ad altri ma direi volevo dire che questa questione del 7 di ottobre di Gaza avrà un grandissimo impatto sulle elezioni americane infatti penso che un talone d'Achille dell'amministrazione Biden Biden stesso il partito democratico sia questa spaccatura interna e nei stati chiave come il Michigan che potrebbe essere il stato veramente chiave di questa elezione molti americani di origine araba non verranno fuori a votare per Biden e molti giovani forse non voteranno per il partito democratico ci sarebbe un'astensione e molti anche persone della comunità ebraica americana che pensano che l'amministrazione Biden non ha aiutato Israele abbastanza e quelli più a sinistra che pensano che Biden sta aiutando Israele troppo quindi 7 d'ottobre Gaza la questione israele e palestinese avrà un effetto enorme a mio parere sinteticamente perché so che ha questa grande capacità Narduzzi e carta sull'astenzionismo britannico che non suscita scandalo ma sai te lo do in sintesi come lasciano i labor l'economia britannica dopo 15 anni scusa i conservatori i conservatori come lasciano i conservatori come i conservatori dopo 15 anni il rapporto debito pubblico PIL è sopra il 100% siamo al 102% non accadeva dal 61% cioè dopo la fine della seconda guerra mondiale gli interessi che hanno pagato negli ultimi 12 mesi sul debito sono 102 miliardi di sterline pari al 3,5% del PIL britannico l'indebitamento netto alla fine dello scorso anno verso il resto del mondo erano 825 miliardi di sterline quindi questo perché perché il paese ha un debito ha una bilancia commerciale in rosso anzi in profondo rosso quindi 14 anni di conservatori lasciano delle finanze pubbliche diciamo devastate l'italiana cioè molto insofferente con una differenza rispetto all'Italia che mentre in Italia c'è il risparmio privato il Regno Unito le famiglie sono indebitate da decenni e quindi c'è un contesto nel quale questa è la grande sfida di Starmer è tutto a debito nel Regno Unito e sono a debito le imprese private e è straindebitato il settore pubblico siamo al 102% del PIL e sono molto indebitate anche le famiglie Maurizio una chiosa molto deludente il dato sull'affluenza anche perché in un sistema maggioritario secco il parlamentare è molto vicino e vive nella sua circoscrizione una sorta di piccolo sindaco tanta delusione tanti vecchi conservatori vecchi nel senso di lunga data non sono andati a votare perché se non votano conservatore non fanno lo switch quindi c'è tanto da riflettere sull'età dei giovani che possono votare andrebbe rivista qualcosa ma soprattutto è una sconfitta per tutti perché insomma votare è sempre la cosa più importante di tutte però ti lascio così nel senso che si parlava del rapporto con gli americani e questa è una cosa ben salda come ha detto giustamente l'analista nel senso che pensate che condividono anche i servizi segreti con i five eyes quindi se c'è una cosa solida nel mondo sono i rapporti fra il Regno Unito e gli Stati Uniti il resto insomma si può discutere ma non su questa cosa ecco grazie a Maurizio Carta grazie a Claudio Fusani ad Alexander Alden a Deolardo Narduzzi che è stato con noi per la prima volta grazie a Luca Telese e poi grazie vediamo stasera quindi ricordate opposizione nel passato c'è la chiave per il futuro l'ultima battaglia di Enrico Berlinguer per chi è interessato il nuovo primo ministro britannico varcherà quella porta che vedete che la regia vi farà vedere il numero 10 Downing Street alle ore 10.30 ora di Londra le 11.30 in Italia ma questo lo vedrete probabilmente nella trasmissione che ci segue e lo vedrete sicuramente nel corso delle prossime edizioni telegiornali noi ci vediamo se volete domattina buona mattinata l'ultima 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 l'ultima